Approvata dal Consiglio regionale alla unanimità dei presenti una risoluzione sull'emergenza Covid-19 centri di accoglienza con la quale si condivide la richiesta al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Interni Lamorgese di impedire che ulteriori vicende di questo genere abbiano a verificarsi e si invita il Presidente della Giunta regionale a chiedere al Governo nella sua interezza di predisporre all'arrivo dei migranti sul territorio nazionale profilassi sanitarie. Con il documento si prende atto della relazione del Presidente Bardi in Consiglio in merito ai nuovi casi Covid-19 registrati in Basilicata e che ha visto alcuni immigrati di paesi extraeuropei sbarcati pochi giorni fa in Sicilia risultati positivi al coronavirus dopo verifiche effettuate dalle nostre strutture sanitarie e si ribadisce che quello che è accaduto è un campanello d'allarme che non va sottovalutato e non vanno vanificati i sacrifici che la comunità lucana ha fatto durante i durissimi mesi del lockdown. La Basilicata è e rimane una regione ospitale che ha il diritto di pretendere misure adeguate impedire che in regione si verifichino nuovi focolai di infezione.